Negli ultimi anni abbiamo cercato di diffondere questa cultura del sottosuolo come risorsa di spazi. Noi siamo sforzati in questi anni di lanciare un programma culturale per far capire invece che dobbiamo usare il sottosuolo, dobbiamo essere capaci di usarlo con le nuove tecniche. I servizi di tutti i giorni, i grandi depositi, l'energia, tutte queste cose che riguardano la nostra vita e che noi consideriamo servizi, possono trovare uno spazio del sottosuolo straordinario e non disturbano la qualità della vita. È una finestra sul mondo, è una finestra per noi e per gli altri in cui è un momento di incontro, di riflessione, di scambio di idee è un momento di verifica anche delle nostre capacità e delle capacità degli altri. È un momento di festa per il tunneling e è una bella cosa che tutti gli anni si organizzi e che quest'anno l'abbiamo dato all'Italia come riconoscimento anche dei nostri valori e credo che sarà un'occasione straordinaria anche per pubblicizzare le nostre tecnologie, per pubblicizzare i progressi che abbiamo fatto in questi anni e siamo molto curiosi anche di sapere cosa ci porteranno gli stranieri e cosa ci faranno vedere.